11 maggio 2016, giro d'Italia per la trivalda. Era la testa della corsa, adesso il gruppo propone. Siamo in compagnia del ragioniere Aquino Salvatore e anche lui sta facendo la ripresa di questo Giro d'Italia 2016. Siamo in località Mano Calzano, a trivalda. Stanno parecce avanti. Sì, un bel vantaggio. Sì, un bel vantaggio. Fortissima. Ormai si preparano allo sprint finale, 40 km prima. Sì, un bel vantaggio. Sì, un bel vantaggio. Sì, un bel vantaggio.